Giuseppe De Rosa, l'ultra maratoneta di Sala Consilina, dopo 18 mesi di stop causati ovviamente dalla pandemia per il Covid, è tornato a gareggiare e lo ha fatto alla grande. Infatti è arrivato quinto, un ottimo piazzamento, nella Ultra Bolivia che si è tenuta nei giorni scorsi. L'atleta valdianese ha chiuso le sette tappe ad attitudini esagerate, ricordiamo che la Bolivia tocca quasi il cielo, se così si può dire, e ha attraversato i 220 km della gara in 3 ore e 31 minuti. La gara è stata vinta dal rumeno Rotario con 2 ore e 30 minuti. Tornare a correre nel continentale, ha riferito l'atleta valdianese direttamente dalla Bolivia, dalla Paz, è stato magnifico, una bellissima esperienza. Ora altre gare, altre fatiche, attendano l'ultra maratoneta di Sala Consilina, noto in tutto il mondo.